Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot. Buona serata a tutti e benvenuti al nostro appuntamento fisso con l'estrazione di Eurojackpot. Stasera parliamo del grande problema dell'energia pulita, in particolare dell'Islanda, la nazione europea più vicina al circolo polare artico, che gode di una gigantesca fonte di energia pulita. Grazie ai soffioni boraciferi riscalda il 66% delle case e degli hotel, una cifra notevole che consente all'Islanda di non dipendere dalle fonti fossili. Notevole come il jackpot di questa sera, che raggiunge i 37 milioni di euro. Siete pronti a scoprire la combinazione vincente? L'attesa è finita. Diamo il via all'estrazione dalla sala delle urne. La prima urna elettronica è attiva. Le 50 sfere numerate vengono mescolate e ora sono pronte per essere estratte. L'attesa è finita. Il primo numero di questa sera viene estratto ora. Il primo numero è... 45. Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo estratto è il numero... 2. Siamo ora al terzo estratto. Ed è il numero... 1. Quarto numero di questa estrazione. Eccolo! È il numero... 23. Quinta sfera. Pronti a scoprirla? Con i due euro numeri potrebbe assegnare vincite milionarie questa sera. Il quinto numero estratto è... 43. Passiamo ora all'estrazione dei due euro numeri. Il jackpot milionario potrebbe essere assegnato tra poco. Il primo euro numero di questa sera è il numero... 1. Ultima sfera estratta per questa sera. Siete pronti alla possibile assegnazione del jackpot? Ecco il secondo euro numero. 9. È il momento di scoprire la combinazione vincente. Uno, due, ventitré, quarantatré, quarantacinque. I due euro numeri sono... Uno e nove. Vediamo insieme i risultati di questo concorso e le quote di tutte le categorie di vincita. Questa sera non è stato centrato il 5 più 2, ma moltissimi giocatori hanno comunque realizzato ricche vincite, sia in Europa che in Italia. Volete scoprire dove sono state realizzate le vincite? Seguite i canali ufficiali Eurojackpot. La caccia al jackpot milionario prosegue martedì prossimo. Il jackpot in paglio sarà pari a... 41 milioni di euro. Noi vi ringraziamo per averci seguiti questa sera e vi aspettiamo martedì prossimo con una nuova estrazione. A prestissimo!